Sono soddisfatta perché credo che quando si riesce a dialogare, pur restando a volte su posizioni differenti, ma comunque a avere uno scambio su un tema importante come quello dell'immigrazione, io comunque credo che qualsiasi dialogo è una forma di arricchimento per poter valutare, riconoscere e capire meglio intanto il problema, ma per cercare anche di trovare le soluzioni più giuste soprattutto. È la prima volta che l'istituzione prefettura si incontrava con il territorio, quindi è un passo avanti importante? Ma su questo tema è ovvio che scambi di interlocutori con gli amministratori ne abbiamo avuto, però più che scambi ci sono stati degli scontri di opinione rispetto a una tematica dove probabilmente l'ideologia prevale molto, cioè il discorso di pancia prevale rispetto a un discorso razionale. In questa circostanza devo dire che invece si è capito che è un tema che diventa un problema comune inevitabilmente. La collega di Roma ha chiarito come in Veneto, a prescindere dalle posizioni, continueranno ad arrivare gli invii, le ministeriali si seguiranno giorno dopo giorno e quindi è importante questa consapevolezza, anche perché ovviamente questo può dare un contributo, cioè insieme a che i sindaci, almeno quelli presenti qui, abbiano preso consapevolezza a che possono non farsi calare dall'alto decisioni dal prefetto, ma che possono in qualche modo partecipare, ponendo sul tavolo delle proposte, alla decisione.